questo è stato uno dei più ostici di tutta la mia carriera avevo intuito la pericolosità del soggetto ma non avevo prove sufficienti però ho tentato ugualmente di far capire a tutti quegli esaltati che lo seguivano che razza di uomo fossi per fortuna hanno ricepito il messaggio e gli si sono scagliati contro ma che fatica sì la pena capitale era davvero necessaria sulla bocca di tutti cresce assai rigogliosa una moda mai doma niente affatto noiosa che comporta il racconto obiettivo delle vicende altri sulla bocca di tutti come tanti giornali scritti senza criterio l'importante è subire gara premi sull'ultima picca delle disgrazie altre sulla bocca le doppi confessioni esordanti strepitosa attenzione fra le pieghe nascoste solida le attenzione diventare la resistenza altrui sulla bocca di tutti cresce il frutto Baccato, bruci, streghe, vuttori, offri il resto al mercato, giudici, esecutori, nel ricco banchetto, le ditte altrui, su la bocca di tutti, la calunnia non basta, per poter presenziale, l'importante è il fangare, dalle brume al soprano per il raffinare dell'Electricité. Sulla bocca di tutti, la calunnia non basta, per poter presenziale, l'importante è il fangare, dalla brume al soprano per il gran finale dell'Electricité. Ricordo la trasmissione, una tensione pazzesca. È stato davvero difficile arrivare alla fine. Quando le luci si sono spente, ho tirato davvero un sospiro di sollievo. Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere, proprio da lui. Se l'è cercata, è indepravata. Se avessi sopputo non l'avrei mai frequentato. Se dipendesse da me non camberebbe un altro giorno. La pena di morte ci vorrebbe, davanti a tutti. Tanto apparentemente dolce, quanto realmente putrido. Ma, ha fatto cose che io non farei mai. Fatti così gravi meriterebbero bene ancora più esemplari. Sembrava un ragazzo così caro. Pessimo, ed era anche stonato. Pataca. Nooo, pensa perché ho lavorato. Basta, è ora di finirla con personaggi di questo tipo. Non sapevo che Andrera che la faccia e i buoni vogliono se nascondevano mostri. Pensa che un giorno l'ho lasciato ai miei figli. E' vero, mamma! Lo manderei a morte, ne? Comportarsi così non è umanamente possibile. Assurdo, atroce, non c'è più religione. Non ci posso credere. Come può un uomo arrivare a fare certe cose?